Buonasera a tutti, i listini europei chiudono la prima seduta della settimana, al di sopra la parità. Bene, i DAX chiude a più 0,75%, IBEX più 0,47%, CAC più 0,66%, poi abbiamo Fuzzi Londra più 0,37%, Fuzzi Mimba che chiude alla pari, quindi a più 0,75%, raggiungendo la migliore performance insieme a Francoforte della seduta. Oggi abbiamo assistito a una seduta priva di importanti spunti economici con il solo dato sulle vendite al dettaglio americano che cresce a sorpresa nel mese di gennaio, secondo i dipartimenti del commercio le vendite al dettaglio sono aumentate allo 0,2% a 504,4 miliardi di dollari. Le vendite di dicembre sono state riviste a ribasso in calo dell'1,6 invece dell'1,2% come precedentemente riportato. il calo di dicembre è stato il più grande da settembre 2009 quando l'economia stava emergendo dalla recessione. Su base annua le vendite al dettaglio registrano un aumento del 2,3%, il dato core, ossia le vendite al dettaglio escluso le auto segna una crescita 0,9% dopo il meno 2,1 di dicembre e affronta del più 0,4% del consensus. Mentre invece il mercato ovviamente si sta concentrando sui prossimi avvenimenti, gli investitori in particolare a partire dai voti sulla Brexit in programma proprio domani e anche mercoledì e giovedì. Infatti andiamo a vedere subito quello che ci offre il calendario macroeconomico di domani, martedì 12 marzo alle 10.30 abbiamo un doppio appuntamento dalla Gran Bretagna con il PIL mensile e la produzione industriale e manufatturiera. Poi abbiamo durante la giornata il vertice dei ministri delle finanze Ecofin, quindi finanze di tutti i ministri europei e poi alle 13.30 l'indice dei principali prezzi al consumo di febbraio degli Stati Uniti ed il voto del Parlamento britannico sull'accordo Brexit che sarebbe la prima tornata. Quindi domani molto probabilmente potremmo assistere a qualche movimentazione un po' più importante sulla sterline, quindi facciamo un po' di attenzione. Bene, andiamo a vedere oggi che cosa è successo. Euro-Dollaro, Euro-Dollaro rimbalzo, pullback, peccato che praticamente non è stato raggiunto il buy limit posizionato a 1.12.15, in questo momento il prezzo inizia a movimentarsi nuovamente al rialzo. Vediamo un po' stasera che cosa succede. Ovviamente la view al momento rimane rialzista dopo aver segnato un nuovo punto di swing, questo è un nuovo punto di swing in ottica giornaliera, andiamo subito a segnarlo. Eccolo qua, vedete, quindi nuovo punto di swing con 1.12.15, il close già di venerdì dalla chiusura dell'ultima giornata della scorsa settimana, che ha chiuso, quindi ha fatto una falsa rottura al ribasso proprio di 1.12.15. Per quanto riguarda invece la situazione sul dollaro yen, dollaro yen c'è una, in questo momento c'è questa fase di correzioni che potrebbe andare a prendere il 50.61.8 per poter poi movimentarsi al ribasso. Questa situazione si vede molto bene su H4, abbiamo una possibilità, come abbiamo detto prima sul giornaliero, di vedere il prezzo a intorno a 111.45, 111.60 per poi iniziare a movimentarsi. In caso in cui in questa zona abbiamo un segnale di vendita, ci sono ottime possibilità di ingresso a mercato sell. Mentre invece per quanto riguarda sterling a dollar e cable, peccato che ho chiuso su prima, prematuramente, l'operazione a più 75 punti, poi vedete come il prezzo ha continuato ad estendersi al rialzo di altri 75 punti, quindi raggiungendo quota quasi 1.31.50 ed in questo momento vedete come è andato a reagire su questo minimo, ultimo minimo, nonché, vedete qua, il prezzo si è fermato per poi ripartire al rialzo. Questa situazione, eccola qua, si vede molto bene anche sul giornaliero. Anche su Stellina Yen, ingresso a mercato su due operazioni, anche qua chiusura 75, più 75, 150 punti, però anche in questo contesto il mercato poi dopo ha continuato a movimentarsi al rialzo. Qua si vede molto bene la situazione ed è questa, la situazione è questa, quindi anche qua vedete come il prezzo riesce ad movimentarsi, riesce ad, andando ad tracciare questo sull'ultimo minimo di venerdì e poi mi porto sul 4 ore. Eccoci qua, vedete come va a rompere, quindi fa un breakout e poi inizia la risalita. Mentre invece per quanto riguarda le altre operazioni che abbiamo a mercato, l'Euro New Zealand, operazione che è entrata a mercato subito questo pomeriggio, ora durante la seduta pomeridiana, verso esattamente alle ore 15, 3 e un quarto, 15 e 15, adesso siamo a più 20 punti. Mentre invece per quanto riguarda altre operazioni che sono entrate a mercato, Euro Yen, il buy su Euro Yen, vedete in questo momento un bel movimento, falsa rottura di 124,610, zona cluster in quanto il livello 124,610 si trova proprio nel mezzo tra il 50, 61,8 di Fibonacci, ovvero 124,70, 124,05 ed anche in ottica settimanale abbiamo questo pattern armonico, questo movimento armonico che conferma la possibilità di una dopo la correzione di una terza fase, la fase di estensione. Mentre invece per quanto riguarda il gold, gold continua la movimentazione al ribasso, ottimo movimento del gold e niente, praticamente in questo momento la situazione rimane ribassista, continuiamo ad essere ribassisti, in questo momento stiamo a 510 punti, cada uno per tutte e due le operazioni, 510 quindi siamo a 1.020 punti e il prossimo target in questo momento diciamo è fissato, target di lungo termine di 700 dispari punti a 1.262,966 per un altro intorno a 1.210. Bene per stasera è tutto, grazie mille per la vostra attenzione, ci aggiungiamo quindi domani mattina con il secondo appuntamento della settimana alle ore 8.30. Buonasera da tutti.